Ok, ci siamo, è il momento per cui abbiamo tanto lavorato. Se sei nervoso, immagina la folla nuda e infilati quegli hot dog giù per la... Signori e signori, benvenuti alla gara che incoronerà il campione assoluto di mangi-hot dog! Diamo il benvenuto al nostro imbattuto campione mangiatore, Charles Yamamoto! Oh, porca cazzozza, quel tipo è enorme! Ok, mangiatori, avete dieci minuti, ai vostri posti, in posizione, mangiate! Andiamo, Chris, stai andando male! Sarà meglio che mi dia da fare! Il tempo sta per scadere, siamo alle ultime battute! Dai, sei indietro di quattro hot dog, andiamo, veloce! Oh, non me ne entra più neanche uno! Ricorda quello che ti ho detto! Ho tutte quelle strane piccole cisti intorno alle palline! Voglio farvele vedere, ma ho paura di quello che potrebbero dirmi! Ha ragione, sì, posso farcela! Abbiamo un vincitore! Signore e signori, incredibile! Charles Yamamoto alla fine è stato battuto!